buongiorno e benvenute nel mio nuovo spacchettamento avon vi presento il primo ordine di campagna 6 faccio presente che purtroppo per un inconveniente con il corriere questo ordine non è completo mi è stato consegnato solo una parte di esso sono quattro pacchi su cinque quindi mancano dei prodotti ho scoperto che questo pacco è stato scondizionato di conseguenza significa che chi doveva consegnare ha distrutto rotto il pacco tanto al punto da non permetterne la consegna e di conseguenza l'azienda ha provveduto già a spedirmi una sostituzione in modo da poter completare l'ordine che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni intanto ho deciso di mostrarvi quello che già è arrivato perché in questo modo potete farvi un'idea di quello che è stato ordinato dai clienti che già da domani cominceranno a ritirare i loro prodotti se l'ordine è completo e non manca niente del pacco successivo che doveva appunto arrivare abbiamo due bagnoschiuma concentrati che ormai avete imparato a conoscere sono bagnoschiuma la cui concentrazione permette di utilizzare un solo tappino di questi qua sulla spugna o nella doccia nella vasca per permettere un lavaggio completo abbiamo due tipologie questo che ha l'eucalipto e ha proprietà di recupero per i muscoli affaticati dopo l'attività fisica e questo che invece è una fragranza vera e propria infatti ha il bollino perfumd perché è a base di profumo è molto intenso e ha una fragranza basata su note di rosa e simile alle fragranze delle profumerie parigine molto intensa molto avvolgente e molto piacevole devo ammettere sono le confezioni da un litro e sono in offerta fino alla fine di gennaio a 9 euro la coppia poi abbiamo tre confezioni di profumo far away infiniti è una variante del nostro best seller far away in offerta a 12 euro e 99 a confezione è un'offerta molto conveniente un prezzo super e di conseguenza la cliente ha deciso di farne scorta come potete vedere sono 50 ml per ogni boccetta abbiamo un reggiseno sportivo questo reggiseno ha una particolarità è stato impregnato di una sostanza rilassante e aiuta quindi a rilassare il corpo dopo l'attività fisica questa fragranza rilassante dura almeno almeno 20 lavaggi quindi è molto resistente e è un prodotto che consiglio vivamente perché comunque anche una volta passato l'effetto rilassante è un reggiseno che sostiene molto bene anche i segni di grosse dimensioni senza avere ferretti cose che possono invece andare a disturbare abbiamo tre sieri all'olio d'argan per il nutrimento dei capelli è la linea a base di olio d'argan absolute nourishment assolutamente consigliata per nutrire appunto i capelli secchi sfibrati che hanno bisogno di una botta di nutrimento abbiamo quattro acque profumate ecco qua albicocca e pompermo rosa giglio e gardenia pesca nettarina e prugna susina e cocco e fiori di chiare abbiamo un portachiavi a scelta nero o fucsia in catalogo la cliente ha scelto il nero con la boccetta riutilizzabile porta igienizzante quindi questa qui voi la ricaricate con il vostro igienizzante ve la portate attaccata alle chiavi super comoda portata di mano giustamente la cliente ha acquistato anche l'igienizzante sia la confezione da 250 ml con l'erogatore sia la confezione più pratica e comoda magari da mettere in borsa in aggiunta alla porta chiavi da 100 ml abbiamo due creme mani in offerta 2 a 3 ore 50 questa è alla glicerina e olio di mandorle e questa è al burro di cacao abbiamo una bomba di idratazione e vitamine per il viso si chiama e new idro provita alla vitamina d è una crema a base d'acqua che contiene una forte quantità di vitamina d che aiuta la pelle a essere più sana più luminosa e piena di idratazione in modo da poter trattenere meglio l'idratazione quindi è consigliata soprattutto se avete problemi di pelle secca è davvero ottima può essere usata da tutti dei tipi di pelle da tutte le età perché non contiene agenti anti age antietà quindi non è un anti rughe è una crema idratante abbiamo un siero a base di crystal light technology che è un siero per i capelli spenti e opachi che ridona lucentezza abbiamo una spazzola piatta a cuscinetto e abbiamo questo che è il nostro gel eyeliner è un eyeliner temperabile con mina in gel che ha una colorazione molto intensa e quindi molto pigmentato dura molto sull'occhio e è facile da gestire rispetto alla classica mina delle matite per gli occhi mancano come vi dicevo dei prodotti che verranno consegnati nei prossimi giorni con il pacco sostitutivo appena li ho vi faccio un piccolo video con il riepilogo di quei prodotti spero che siano sempre interessanti per voi questi unboxing vi auguro una buona serata e vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni su che cosa faccio e sul mio lavoro su quello che vendo e come diventare consulenti o tanto altro nelle le informazioni sotto al video buona serata